Stefano Bonci è il responsabile del corso Robotica Innovazione Digitale, è un corso molto stimolante, un corso ricco di contenuti, un corso ad alta professionalità. Chi conclude il percorso formativo che abbiamo detto è lungo 1800 ore, in realtà esce con delle competenze importanti, soprattutto per quello che è il futuro della tecnologia delle nostre aziende. I contenuti Stefano Bonci, proprio per andare un pochino sulle aree specifiche. Noi cerchiamo praticamente di andare a dare quelle competenze richieste dall'industria 4.0, quindi dalle aziende più innovative della nostra regione Marche. In particolar modo si possono riassumere in competenze di informatica applicata, competenze di automazione di processi e quindi praticamente della programmazione di robot, eccetera, e anche di progettazione meccanica, anche quest'ultima molto richiesta dalle aziende. Per partecipare a questo corso basta praticamente mandare la domanda di iscrizione entro il 22 settembre. Il corso partirà invece verso la metà di ottobre, fine di ottobre, per una durata appunto di 1800 ore, quindi di due anni, anche se si costituirà di 1000 ore di aula e laboratori molto pratici e 800 ore di stage in azienda. Noi siamo un'azienda facente parte del gruppo BS e grazie all'intuizione del nostro fondatore, il signore Giancarlo Scelci, abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare dei prodotti che sono il core delle macchine utensili, in primis per l'ABS e poi per tutti gli altri costori che ci sono in giro per il mondo. Produciamo elettromandrini, teste birotative, tavole rotto bascolanti e motori ad altissima frequenza. E siamo riusciti con la nostra organizzazione industriale a dividere le fasi di lavoro in fasi molto semplici e questo permette agli istituti tecnici qui intorno alla zona di poter far approdare i loro studenti in azienda. Cominciano già a fare dei tour in azienda, già dalla quarta superiore, la quinta superiore, e cominciano a vedere che c'è un mondo vero, reale rispetto a quello che in teoria hanno studiato sui banchi. Questo è, secondo me, un'ottima chiave di successo. Quasi il termine di un percorso, ho cominciato con un percorso di studi, con l'ITS Lab Academy di Fano. È stato un percorso lungo 1800 ore, di cui mille ore in classe, superati i quali poi sono 800 ore di stagione in azienda, dove io ho avuto modo e piacere di passare all'interno dell'HSD di Gradara.